Allora, devi tirare dentro le sbarre e lasciarle leggero, devi andare giù bene, profonda, porta le ginocchia verso il petto, ok? Ok, ma tanto ci sono io, vai su forte, 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 uno, piano sempre, e vai forte, bravissimo, bravo Grace, 4, ok, ce la fai, ce la fai, 5, 6, 6, 7, 8, ce la fai, collegando ai piedi, 8, 9, grande Grace, vai, 12, 6, wow, 11, 12, molto bene, 13, 14, 15, vai, vai, 16, grande, ancora 3, dai 3, 2, ultima, Ok, spetta, ferma, porta giù piano, giù piano, bo, grazie Grace, a tu, grazie, thank you, thank you.